Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Cesare Martignone. Il traffico scorre regolare al momento in tutta la rete stradale e autostradale della nostra regione. In A1, prudenza per la presenza di un veicolo fermo in carreggiata tra Firenze Sud e Firenze in Plunetta in direzione Bologna. In FIPD per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna nell'arco della giornata possibili rallentamenti con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. A Firenze, fino al 15 settembre, in Viale Don Minzoni, restringimenti di carreggiata e divieti di transito. Si ricorda che per lavori di puliacqua, dal 9 agosto, i viali di circonvalazione tra la Fortezza da Basso e il Viale Matteotti saranno interessati da provvedimenti alla circolazione. Si ricorda inoltre che prosegue la messa in sicurezza del viadotto Marco Polo a partire dal lunedì 9 agosto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio!